E' speciale E' bella tutti ragazze e ragazze E oggi siamo in un nuovo video E oggi stiamo giocando a Free Fire E oggi sto con un ospite Speciale Franklin06 E stiamo giocando insieme Lui stava facendo il video come l'altra volta Metti pronta però Ok Ora iniziamo Da vedere che siamo nella lobby Ecco raga Siamo nella lobby E come vedete C'ho il mio caschetto Da Da Vabbè Non si passa Vai buttati Non si passa No non si può mettere Non si passa Ok Raga Qui siamo Su dietro le dite Non muovo Partito Io Dimmi con la casa Perché guarda se tu ti muovi Mi muovo anche io E' vero Sì Come vai Perché se il copio Bello Ecco perché giravi attorno a me E' Ma che Già prima arma Ho trovato un caccia Buonissimo Da lontano Da lontano è buonissimo raga Ma andate Ma non è stato registrato Si lo sto registrando Per le armi si Raga c'è un tizio Ok raga qui Abbiamo fatto Un po' di roba abbiamo raccolto E devo dire che Non è niente male Beh vi ho questo Si ma c'è un tizio qui Ok raga ora c'è il mio tizio Io non sparo Ecco raga Perché stiamo mettendo il video Dietro pure dietro pure Dietro Ok abbiamo distrutti Tu vai dall'altro tizio io vado dalla tizia A piare la roba E se ne scappa pure Ecco un altro Io tengo il caccio Quindi non posso ammazzare Ah c'è il caccio C'è qualcuno Si c'è un tizio Ok raga Prima avevo fatto una kill bellissima Scusate ma Avevo stoppato Io nelle kill non stoppo mai C'è col pompa ogni po' Che riesce a seguirlo quello che scappava Ma è meglio mettere questo Che ha fatto un po' male Dove cazzo è Se ne è scappato no ecco Morto Stavo riuscito Ah Ok Ce n'è un altro Allora Ma sei tu Si Pensavo che fossi un nemico Come pensavi che sono un nemico Eh la roba Perché non ho visto la scritta Non era comporsa Non c'è nessun nemico Quanti minuti Guardate come sono figo Con la maschera antigas Quanti minuti Quattro Cinco Ma che cazzo stiamo facendo Giro giro tonno Ma adesso andiamo al centro Eh andiamo Ma tu stai facendo Giro giro tonno Io seguo te Ah Io non so poter Il contatto 3 kg Ma sono di tutto il genere Uh guarda cosa c'è qui Questo qui è buonissimo Quest'arma Però P90 Si Ma tu hai detto Che non è in 3 kg Vabbè Perché dai che fucile d'assalto Si No quello lì Che non è il P90 Questa qui è la K La K Tu dici Eh È più forte dai Il fucile d'assalto o la K Il fucile d'assalto Però la K È anche buono Io sto in video Io non ho Perché Non ci sono Raga lì ci sono dei bombardamenti Dove c'è la zona rossa Che raga abbiamo trovato una macchina Si Raga abbiamo trovato una macchina Ma le vieni diciamo a l'Ekbar Ok vai bello figo Io mangio pasta col tonno Tutta pasta Corona virus Corona virus Chezza non ha una velocità per salire una montagnetta Ok Corona virus Siamo lì si no ma arriviamo Questo sarebbe un quadro lo sai Ti distruggio Vieni qui vieni Già si è cagato da sopra Non sta bene che io mi ho portato a coronavirus Morto? Ha distrutto È morto? Sì l'ho ucciso L'ho buttato sotto Mentre quello si No è troppo bello No perché sono coronavirus Lì sotto i fori Allora io se lo butto sotto Fa un bollo Io mangio pasta con i favi Sono un ragazzo carino Perché non parte più la macchina? Perché forse ci stanno sparando Forse No ho sbattuto contro l'albero E che cazzo? La macchina è Oh Ho visto qualcuno Oh ma che Pensavo che era un nemico che la spavano come un momento No sono io Alex Se mi provi a buttare sotto Non lo so Oh i bombardamenti Sopra di me Corri via Sì ma ci sono due di sopra Arrivo da te Mi butto sotto con il coronavirus Ma Sei morto? Sono morto Vieni Ti salvo io Tu non devi Oh non devi cazzeggiare così Mi potevi curare scemo Non ti posso curare? No guarda sono morto Mi potevi curare prima Vabbè questa partita è persa Vabbè famiglia Non sei giocato Tu non sai giocare Sto a terra come li faccio a uccidere Sì Guarda Che morto Un stereogramma Succero pure a me Io giro lo schermo Qua si rigira di nuovo E stacca E mamma Vabbè raga Si concede la vittura reale a lui Almeno a lui Allora Abbiamo perso È stato un piccolo errore Piccolo Piccolissimo Ebbè forse ora le facciamo un altro Forse Sto a otto minuti Cosa? Cioè no Un'altra però Con un altro video Ma non ora forse Un'ora ce ne dobbiamo andare Vabbè Raga direi di concludere Prima E vi dico Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Io sto ancora in video Ok Vediamo se mi hanno detto qualcosa di buono Ti devi ancora avere Sto a terra A me faccio faccio Ma poi non so Ma poi non so Cosa cosa ho visto Se mi hanno sparato da sopra Ma non li ho visti di sparo Cosa cosa ho visto Si non è E' Sto a terra Per fare E' Sto a terra Anche 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 I produttori di questo gioco Hanno fatto pure la season C'è anche il pass E' proprio copiatissimo A fortnite copiatissimo Però è bello Un bel gioco Niente male Freboss E box Allora ragazzi Ora concludo il video Ora concludo il video Perché fa 10 minuti ai 28 Comunque iscrivetevi al mio canale Anche colori di Franklin06